in questo video andremo a provare tre batterie da 36 colpi 20 mm della red star ragazzi guardate qua che meraviglia queste batterie 36 colpi ma contengono la grammatura di delle 49 colpi ragazzi red star non risparmia sulle grammature di queste bestie ciao a tutti ragazzi benvenuti a pirotecnica torretta io sono nico e oggi abbiamo samu che fa il cameraman siamo qua per portarvi un confrontone sapete che in questo periodo ci avviciniamo al momento caldo esattamente e quindi noi abbiamo bisogno di capire quali sono le migliori batterie cosa va preso e cosa va editato come la morte esattamente quindi abbiamo un confrontone red star e qua siamo curiosissimi perché la paura di tutti quando prendete la stessa marca sulla stessa grandezza diciamo di batteria è che siano tre uguali è che siano tre uguali quindi dice ho buttato via i soldi e invece noi cosa andiamo a fare le proviamo le buttiamo via per voi esatto e vediamo con queste grammature che secondo me sono tutte esattamente uguali 349 349 349 349 sono a 36 colpi ragazzi è alto e la grammatura delle 49 cosa fantastica che piace a tutti noi ragazzi dei fuochi doppia miccia doppia miccia sì queste qua volendo ve le collegate tutte quante in un mega compound unico e diventa vedi da 36 3x6 72 100 e passa 108 quindi ragazzi con fra il resto dentro una maria di effetti diversi ah vedremo forse forse tra il resto non ho neanche guardato il video quindi proprio buio totale ragazzi su queste subito allora visto che stavolta Sam non può barare io mi piglio la football perché lo sapete ragazzi io l'ho amata d'oro mi sento così spagnoleggiante il toro mi ispira poi la light sarà la migliore paese va bene ragazzi io direi che non c'è tanto da parlare no non c'è troppissimo da dire 20 mm confrontone esattamente si so dopo danno alle porte avete voglia di vederlo andiamo a sparare senza troppo chiacchiere si sono belle solide unica cosa che vi dire ragazzi le trovate tutte quante su Piroworks tutte quante su Piroworks codice PLT5 per portarvela a casa col 5% di sconto tutte e tre queste bellezze che adesso andremo a provare in azione direi di scavicchiare soltanto ti va di scavicchiare ma tutte o solo una? ma si tutte così lasciano meno sporco a terra diamo un'occhiata ai tubi magari senza spaccare la miccia senza spaccare la miccia e lasciando coperta la miccia di riserva così non andiamo in in merda esattamente diamo un'occhiata e ragazzi farei notare anche una cosa i tubi mi sembrano belli zavorrati cioè non so se si nota ma sono pieni quasi fino in cima si 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 rimane poco tanta roba red star vediamo eh Samu sai che a me non piace parlare prima eh no è vero è vero sai che sono un fan del com'è che si dice com'è che si chiama il Sanso tu che San Tommaso San Tommaso se non vedo non credo quindi voglio vedere e credere sparita la miccia principale è scombarsa? no no ah no è quella lì è solo un po' solo un po' in thick cut va bene ragazzi direi che possiamo andare a sparare vi lascio un po' sottodotata che tolgo l'ultimo pezzo ve lo rispargo vai questi sono ma no dai questo è il momento smr vi piace? come quelli che fanno i video che che sgranocchiano panocchie a me danno un fastidio mamma pure io non riesco a supportare anche sulle live vanno fortissime si no di bestie a me dopo due minuti che ti chiettano mi viene da prenderle niente ok vabbè ma su youtube si può tutto quindi puoi anche dirlo e fu così che è chiuso l'account let's go to the sparations come che si cioè sparare in inglese su the fire to the... si fire in the hole a te a te vuole parto? direi di andare in ordine matador light football football light football si ah con l'ordine di football no se no mi ricordo di quale una e quale l'altra si fai matador light football ordine di tiktok ah tiktok come vuole io ah giusto football light matador se no andare con la football si football light beh ragazzi iniziamo con queste belle 36 colpi red star red star ragazzi vi costa leggermente di più ma vi posso assicurare che ne vai si ma vi posso assicurare che ne vale tutta la vita la pena è veramente qualità 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 è una mega curiosa non l'ho non vista neanche a video oh bellina bei colori grazie urkukan c'era la botta al titanio ragazzi c'era la bottarella al titanio vai vai bella botta al titanio ragazzi ci spostiamo un pochettino vai ci spostiamo un pochettino guarda ci sono questi cavolo di lampioni che purtroppo ci falsano leggermente la percezione ci abbagliano un pochino la telecamera ehi bella bella bellissima ma tra l'altro sto notando ragazzi che tutte quante al solito non ci abbiamo attaccato una palla si la light è spettacolare come al solito ragazzi l'unica non scelta ce la fa pagare sto notando che stanno finendo tutte con una bottarella al titanio non so se l'avete notato ma nella volata finale c'è la botta al titanio sempre spettacolo e questa dovrebbe essere la matador un po' light ma d'orzi ooo olè olè arriva non so perché ma sento la vittoria in tasca devo dire non lo so perché mi portassi vieni qua va per un attimo quando ho visto sparare la light ho tremato ho detto figlia non vince nessuno portassi porco cavolo e eccole qua le meraviglie ragazzi oh tutte chiudevano titanio tutte posso dire che come al solito porco cavolo non vinco mai mezza volta allora la football bella no dai si sta riequilibrando un pochettino le sfide allora bella però è un po' più classica diciamo con vari colori perché cambia comunque i colori però è molto ricca cromaticamente ragazzi esatto quindi forse per quello è anche la football un po' squadra un po' di colori può essere può essere sì c'era giallo rosa veramente ricca come colori molto molto bella comunque bella eh le prenderei tutte e tre non ce n'è una che non prendo poi se devo sceglierne una forse poi tutte diverse esatto forse se devo sceglierne una andrei forse sulla matador che è l'ultima però andiamo prima sulla light sì la light molto carina belle palme palme bravo molto belle e persistenti anzi vince che venivano giù proprio i pezzetti di conè liscio noi ragazzi laggiù abbiamo un estintore da 6 kg apposta per sparare in sicurezza le stelle arrivavano che erano residui cioè pochi residui però bruciavano quasi fino a terra però bruciavano le stelle quasi fino a terra bellissima alta qualità delle stelle super e poi raga secondo me la matador è un po' un mix tra le due sì quindi ha dei salicini che però aprono col colore quindi salice colorato e un oro broccato veramente è un oro bellissimo sì sì quindi assurdo per me per me purtroppo perdo e vince samus come la matador la mia prese sì anche per me ve la consiglio assolutamente se potete scendere solo una la matador per gusto personale se dovete scendere potete scendere tutte e tre prendetevele e le collegate magari perché vengono veramente una figata sì essendo poi diverse veramente vi viene bene anche collegarle tutte in fila ci fate un bel compound 108 colpi super easy sì e faccio notare i fondi sono tra i più perfetti che abbiamo avuto fino adesso no redstar non è male e anche come scoppi vanno belli alti non vanno belli costanti neanche uno mi è saltato vicino col tiktok e devo dire neanche uno mi è arrivato vicino addosso quindi molto belle bene bene quando c'è da dirlo c'è da dirlo ragazzi se sono belle sono belle si può dire niente è veramente quel colpetto al titanio che hanno buttato è una chicchina vero colpetto al titanio colpetto al titanio dentro comunque delle 36 colpi basse comunque un prodotto abbastanza economico alzo le mani che dire io vi ricordo solo che potete acquistarle sul sito Peerworks col codice PLT5 avendo il 5% di sconto potete comprarle ci sono tutte e tre sono disponibili sì spero ricordatevi se volete poi darci una mano di abbonarvi al nostro canale un euro al mese neanche 0,99 avete video esclusivi nella chat con Samu sì sì possiamo parlare un po' video come ad esempio come ad esempio quello per realizzare questo bel bambino qua come angolare due batterie in totale sicurezza che non è ma per capodanno si avvicina un euro al mese anche vi fate questi tre mesi vi vedete qualche video su come fare un po' di qualche batteria e ci spendete quanto un caffè in aprile esatto al massimo poi non vi disabbonate ma almeno vi guardate come fare qualche bel giochino per capodanno detto questo non vi vogliamo più disturbare vi lasciamo e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao